Adesso cosa mi proponi? Perché possiamo provare ad abbracciarle in modo molto Flertare o chiedere direttamente per un appuntamento Ho paura, perché se qualcosa va male magari roviniamo tutto Ok Io direi che come prima cosa proviamo ad abbracciarla Dai, in amicizia ci può stare un abbraccio, scusa Questa è rischiosa, eh Secondo me sei molto scarsa a provarci con una ragazza Ok, no, ha funzionato Posso provare con le ragazze Brava Abbiamo quasi finito la barra e guarda cosa ci ha perso Proviamo? Ci dobbiamo provare Sperinichi, facciamo il tifo per te Dai, dai, dai Sì Che bello E ragazzi, come va? Io sono Ferinichi E io sono Steph E questo oggi giocheremo a Youtubers Live Ma prima di tutto vogliamo salutare i nostri tre eroi del giorno Che sono Carmelo, X, Momitec e Tommy Ciao Grazie ragazzi per il supporto e per la condivisione E detto questo, siamo pronti per iniziare la nostra giornata con Sperinichi Oggi succederà qualcosa di speciale Stiamo proprio per passare alla storia perché è qualcosa di davvero fighissimo Assolutamente, guarda come felice essere Nikki Guarda il suo sguardo Che sorriso smagliante Pieno di gioia perché oggi cercheremo di accontentarlo Lui ci ha confidato che si sente solo Dato che ormai vive appunto per conto suo Esatto E quindi cercheremo di fargli avere un appuntamento con Tessa Perché sì, la ragazza gliela sceglieremo noi Esatto Perché viene sempre a casa Quindi ci sembra la più facile da conquistare, no? Perché gli altri sono un po' più irraggiungibili Mentre invece lei guarda è sempre qui Sicuramente anche lei ha un interesse per Sperinichi Cioè dimmi che non è così Secondo me è interesse per il suo computer Però se tu sei convinta Ma no, scusa Allora, ti faccio un discorso Ok Io da ragazza queste cose le capisco bene, ok? Ok Sei sicura? Sì, sì, mi devi ascoltare bene Io mi fido di te perché io non ci ho mai capito nulla A me sembra che soltanto voglio usare il suo computer Se tu mi dici Allora, se tu non sopporti una persona Non ci vai a casa sua per usare il PC, scusa, capito? Funziona un po' così Mi fido di te Allora, noi almeno proveremo a fargli avere un appuntamento Se fa una figuraccia e si deprime e non fa più video È colpa tua No, è colpa tua No, è colpa tua È colpa tua, non si sa perché Perché è sempre colpa dei ragazzi Vuol dire che gliele hai chiesto in un modo troppo scortese, ok? Va bene Allora, partiamo invitando la casa Ok Quindi ce la invitiamo Guarda, siamo anche molto amici con lei Io farei notare che proprio abbiamo una relazione di amicizia altissima Quindi Ok Allora Ciao Ciao Tessa Guarda tutte le opzioni che abbiamo Allora Stai iniziando a parlare per sciogliere un po' il ghiaccio Sì, esatto Hai capito subito Cerchiamo di farla ridere Vedi, sta funzionando Le ridere, sono felici Vedi che qualcosina la sai Non sei più così scarso È una bellissima giornata Adesso cosa mi proponi? Perché possiamo Allora, vedi Provare ad abbracciarle in modo molto Uh Flertare O chiedere direttamente per un appuntamento Ho paura Perché se qualcosa va male magari roviniamo tutto Ok Io direi Sì Che come prima cosa proviamo ad abbracciarla Dai, in amicizia ci può stare un abbraccio Scusa Questo è rischioso, eh Secondo me sei molto scarsa a provare con una A provarci con una ragazza Ok, no, ha funzionato Ci so provare con le ragazze Brava Oddio Ci provo? Non so se prima Aspetta, aspetta Mi sto emozionando Perché non so se Diamole un regalo È meglio prima chiedere l'appuntamento E poi flertare Oppure il contrario Guarda i fiori L'ha accettato? Mi è sembrato di sì Allora Secondo me se ne voleva andare Hai visto che lo stavo Sì Secondo me stava per scappare Dalla parte Non aveva apprezzato i fiori Stava per scappare Secondo me No, ride, ride Ok Allora Sì Proviamo a chiedere l'appuntamento Ok Dai, vado L'abbiamo dato anche i fiori È il momento cruciale Più di così Dai Stereniki che ce la puoi fare Dai Stereniki che ce la puoi fare Aiuto Ok Guardalo, guardalo Ok Oddio Come temerario Sì, ha funzionato Sì, 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 sì Perfetto Ce l'abbiamo fatta Guarda, guarda Che cosa? Hai vista l'opzione? Non l'hai vista? No Possiamo fare i video con testa Oddio Possiamo Allora, no, 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 no Prima andiamo all'appuntamento Ok Poi pensiamo eventualmente a fare i video anche Cioè, sai poi cosa può succedere? Che magari tu fai il video Sì Dici, faccio i video con testa Il pubblico si affeziona a testa Poi magari l'appuntamento va male Quindi Per rimanere male tu Hai ragione Meglio tenerla fuori dal canale Fino a quando non siamo sicuri Eh, o vedi come te And Certe cose non dovresti dirle Lo so Prima cosa di oggi Siamo riusciti a chiedere l'appuntamento a testa Ok Quindi io sono felicissima di questo Speriamo che vada bene però Perché ancora Non lo so Potrebbe andare tutto storto Sinceramente non siamo mai usciti con una ragazza in sto gioco Quindi non so come andrà Esatto Altra cosa che secondo me è molto molto importante da fare Ok E cambiare quella specie di cosa Che chiamiamo PC Che abbiamo lì sopra Esattamente Abbiamo accumulato un po' di soldi Non so neanche se bastano Perché costavano davvero un sacco Però c'è qualche chance 560 E' sempre in mezzo testa E' proprio innamorata E' proprio innamorata Guarda Del nostro computer Assolutamente Allora Vediamo i PC che possiamo comprare Allora Dobbiamo comprare CPU Quindi Mamma mia quanto costano Secondo me dovremmo prendere coraggio Farci qualche altro soldino E comprare questo Ti fare notare una cosa Sì Ora che serenica lavoro Abbiamo gli iscritti del canale arrabbiatissimi Ho notato C'è una faccina ragazzi Che davvero io non l'avevo mai vista Sono arrabbiati Sono furibondi Arrabbiatissimi Quindi direi Che prendiamo un nuovo PC E registriamo subito un nuovo video Esatto Per fargli vedere la qualità Brava Brava Allora Quindi PC World Era questo Sì Mamma mia quanto stiamo spendendo Mamma mia Ok Arriva tra un giorno Forse è arrivato Ok Ah già è arrivato Sì Uh bello Velocissimo Uh Proviamo subito a fare il video Proviamo Ok Vai Allora New gaming video Guarda quanti giochi abbiamo ormai Quanti giochi abbiamo Quale facciamo Kung Fu Desert Uh Metal Forklift Call of Fury è già passato Si sono già stancati Sì 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 Stancati Facciamo questo Sì 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 Non so Oddio No 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 Non facciamo video da tanto Se torni a fare un video con una collaborazione Il pubblico si arrabbia Quindi facciamo Dici che così Vabbè iniziamo con un video da soli Ci facciamo i fatti nostri Come sempre L'unico commento negativo riguarda l'editing Io direi che è arrivato il momento di fare un corso Che dici Sì è ora di fare il primo corso Assolutamente Eh anche perché se notti i commenti sono sempre positivi È l'unica cosa negativa che ci criticano sempre Quanto costava il corso di editing? Non mi ricordo però Contando che siamo Erano abbastanza cari Abbastanza poveri Allora facciamo così Andiamo a fare un lavoretto E poi lo iniziamo Tanto gli iscritti li stiamo facendo felici Perché è uscito un bellissimo video L'editing non è migliato molto col computer Undici ore prima secondo me Il render Il render Erano tipo diciassette ore Quindi bah Abbiamo speso un sacco di soldi un po' per nulla Però ce lo facciamo andare bene Ma magari migliorando con l'editing Migliora anche il render Che dici? Magari riesci a fare un video fatto meno È vero Quindi il render è meno lungo Non lo so Potrebbe essere In ogni caso guarda Ormai con le views siamo fenomenali Gli iscritti non ci stanno perdonando così facilmente La faccina arrabbiata continua Mi sa che dobbiamo registrare due o tre video di fila Per farli tornare felici Magari poi facciamo anche la collaborazione Così gli facciamo vedere qualcosa di nuovo Che ne dici? Così forse Sesso magari porta un po' di felicità nel canale Non credi? È arrivato il momento di fare il corso Perché non possiamo continuare con questo edit impessimo Vediamo un po' quanto costa Allora Dov'è quello di editing? Basic video editing È questo? 80 80 dollari Vabbè Vabbè Dobbiamo investirli È un buon investimento Su 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 Per forza È l'unica cosa che ci criticano Per diventare dei perfetti youtuber Dobbiamo assolutamente migliorare l'editing La barra del corso è lunghissima Guarda quanto ci vuole per diventare bravi nel video editing Ma tu cosa pensi? Che lo possiamo lasciare quanto ci pare? E se però lo togliamo Poi dobbiamo ripagare il corso? Come funziona? No allora secondo me tu l'hai iniziato Ti fermi quando vuoi Riprendi quando vuoi E riprendi da quel punto Ah bello però Quindi studiamo un po' come Esatto Quando vuoi Quando abbiamo voglia Quando abbiamo voglia Esatto Allora ok il video siamo stati pagati Quindi siamo tornati a 100 bigliettoni Magari ti stai dimenticando che ci dobbiamo comprare i vestiti per l'appuntamento contessa Ma me ne sto dimenticando Dopo che tu non mi hai fatto comprare quelli per costume Costume Parting costume Scusa Ok Mi stavo confondendo Ok Non possiamo assolutamente non comprare i vestiti sportivi Perché altrimenti questa volta ti picchio Io te lo dico Cos'è successo? Ci stanno chiedendo di fare un gioco 360 Ah però Coldly Record A collab video Ci stanno chiedendo di fare una collaborazione Ma scusa Una collaborazione per 360 dollari? Certo che la facciamo No Perché? Perché è per PSP Vedi PSP E non ce l'abbiamo Probabilmente ci costa di più la console che il registrarlo Quindi dobbiamo rifiutare Peccato No no Guarda l'avrei anche comprata Ma c'è il party di mezzo Esatto Dobbiamo comprare i vestiti Esatto Abbiamo appena pagato il corso C'è tante spese Altrimenti poi finisce che ci sfrattano dall'appartamento Guarda la faccina dei nostri iscritti Non ti sembrano i più felici del mondo? Io non ho parole Sono proprio soddisfatti Non riusciamo a renderli contenti Anche se poi aumentano gli iscritti Quindi mi chiedo Finalmente 50.000 iscritti No ma stai capendo cosa ci stai dicendo? No non l'ho letto Ha detto che 50.000 iscritti lui aveva cambiato casa Di nuovo Siamo di fronte al poter cambiare di nuovo casa Io direi di no però No per ora no Io direi di sistemarci un altro pochettino col corso Migliorare ancora un po' E poi eventualmente cambiare casa Anche perché qua siamo sempre stretti con i soldi Esatto Siamo molto messi bene Se allarghiamo ancora Secondo me peggioriamo e basta Magari finiamo in una casa ancora più cara E secondo me è un disastro Io direi di stare ancora un pochettino qua Ci sta chiedendo Tessa di andare a vedere un film Vuoi andare? Dai ci andiamo Facciamo da bravi Allora smetti di studiare il corso Mangiamo qualcosina E andiamo a vederci un bel film con Tessa Così è felice È allegra Guarda cosa ci mangiamo prima di andare Un bel hamburger Uh adesso abbiamo sbloccato anche la pizza Mangeremo solo pizza da ora in poi Tu mangi solo pizza Esatto Quindi Stereniki mangerà solo pizza E il nostro Stereniki ha quasi finito il corso di editing Non è ancora migliorato Perché ho notato che mentre lo fai non cambia molto Quindi spero che ora che lo finisce Riusciremo a fare dei video perfetti Diventerà un editor provetto Io ne sono sicuro Nel mentre ragazzi dopo Call of Fury Abbiamo iniziato Battlefield 2 È il gioco più bello del mondo Non c'è altro da dire Guarda 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 Come aumenta la nostra esperienza di video Video editing Perfetto Questo era un corso base Quindi penso che poi facendo altri tipi di corso Aumenterà ancora di più Vediamo però se adesso Vedi Vedi Adesso abbiamo due stelline 200 Mamma mia quanto costano questi corsi Non credo che lo faremo breve ragazzi Vediamo se cambia qualcosa Eh io vedo subito le differenze incredibili Guarda qua Non è vero Eh Allora tu Sì Subiti le tessere al meglio possibile E vediamo poi i commenti Perché tanto guarda L'editing ci viene sempre criticato Quindi se non viene criticato Vuol dire che qualcosa è migliorata Anche secondo me è il miglior modo per fare questa cosa Però sta avendo grossi problemi Dobbiamo andare all'appuntamento Uh è vero è vero Muoviti Ok allora cerco di muovermi tantissimo Allora Facciamo così 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 Ta 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 Il render è rimasto uguale Quindi al massimo cambia il fatto che ci insultano meno Ci stanno chiedendo di fare un gioco Se non chiede console Ok PC PC quindi va bene Ok Sì Accettiamo Accettiamo Sì Pubblica questo video Ok E prepariamoci subito per il party Prepariamoci subito per il party Allora guarda Ho comprato questo cappellino sportivo Che carino Davvero bellissimo Maglietta secondo me va bene Molto sportiva Sì dai Vedi abbiamo i pantaloni della tuta Quindi possiamo mettere quelli Bellini No ma metteglieli colorati Tipo di verde Verde Sono bellini verdi Ok Le scarpe Quelle Queste E dai sono sportive Anche secondo me Non sono da basket queste scarpe Non credo Però facciamo finta che lo sia Perfetto Siamo pronti ad andare all'evento Il gioco riusciamo a aprirlo al ruolo Ok E quello che ci ha dato la tipa Speriamo che almeno sia di moda il gioco Lo spero Lo spero perché avremo bisogno di un bel gioco Che faccia risollevare il morale del nostro Esatto È il nostro appuntamento Vedi che tutti sono vestiti un po' come noi Va bene va bene Dai almeno questa volta non siamo fuori luogo Tessa Guarda Tessa Vai lei Non è lei Non è lei Aspetta Sta ballando con un altro tipo Tessa Tessa Non ti permettere Mi spacco la faccia Non ti permettere l'appuntamento è con noi Non parlare con nessun altro Scusa Queste cose non si fanno Però è terribile come appuntamento Flirtiamo un po' Dai cerchiamo di scaldare Sì 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 Guarda Lei ridacchia Quindi penso che stia apprezzando Guarda Spero Ormai vanno d'accordissimo Tessa e Sterinichi Sono la coppia dell'anno E fatti guarda come si abbracciano Però non mi piace l'appuntamento in discoteca Volevo qualcosa più Una cenetta romantica Non c'è la possibilità di andare a cena Quindi è contento Forse sono troppo giovani per queste cose Capito Penso un po' di sì Siamo noi che facciamo le cose da vecchi Ma non è che le devono fare per forza Esatto Abbiamo quasi finito la barra Guarda cosa ci ha apparso Proviamo? Ci dobbiamo provare Sperinichi Facciamo il tifo per te Dai 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 Sì Ma è comparsa una faccia triste con la goccettina A lei mentre la baciavamo Ma come? Ma sei arrabbiata? Ok, 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 ok Forse magari era un pochettino imbarazzata perché era il primo bacio Però possiamo chiederle Sì Sono troppo emozionata per Sereniki Dai Sereniki Sono troppo carini, guarda Sono troppo, oh mio dio Di nuovo, attenzione, attenzione Accetta, ok, accettato Ce l'abbiamo fatta Sono fidanzati Sono fidanzati, ce l'abbiamo fatta Il nostro obiettivo principale è stato compiuto Sono troppo carini, ma li hai vista la scena? Che bellina che era Sono stati troppo carini Finalmente abbiamo conquistato Tess Ce l'abbiamo fatta In discoteca non la racconterei ai prossimi figli Però non importa Ce l'abbiamo fatta, questo è l'importante E adesso ce ne possiamo anche tornare a casa felicissimi Le diamo un abbraccio per festeggiare il tutto E ce ne torniamo a casa In ogni caso ci fermiamo così Prossimo episodio se riusciamo a sistemarci coi soldi Cambiamo casa E facciamo anche una collaborazione Perché ormai Ok, ok Ci manca vedere come saranno le collaborazioni Magari la facciamo proprio con Tessa Ormai che siamo fidanzati faremo il video La mia ragazza Esatto Views assicurate Una figata Quindi faremo queste due cose Non vedo l'ora Te lo dico già Beh ragazzi il video faceva così Se vi è piaciuto lasciateci un bel like E se è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao alla prossima Ciao 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 ciao